Ciao unicorni, bentornati in questo nuovo vlogmas Sono le otto e mezza, mi sono svegliata alle sei e non sono più riuscita a dormire Sono qui con Perla Come tai? Come tai Perli? E dormite bene? Perla! Ciao! Ah! 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 Ahia! Uff! E' sciogno E quindi Sono triste perché mi sono svegliata alle sei Un po' presto, non sono più riuscita a dormire Vabbè, a dopo Ciao! Allora, adoro troppo perché ho scaricato ieri in macchina Il nuovo album di Tiziano Ferro E l'ho ascoltato tutto il viaggio in macchina E adesso lo sto riascoltando perché adoro, adoro, adoro Amo! Oddio! Oddio! Amo! La Giampino! La Giampino! Non potete capire quanto abbiamo giocato con Perla Praticamente noi inseguivamo Perla dal divano Su tutto il corridoio fino alla sua cuccia Avanti e indietro E lei scappava E poi ci inseguiva lei Non lo so, Perla oggi si è svegliata Molto giocherellone Vabbè, comunque adesso sono le 10 Ora facciamo colazione Questo qui è il tè che beviamo Questo qua con la confezione gialla Al bergamotto della Twinnings Che si chiama Air Grey Tea Comunque non so se notate Però sto diventando un unicorno Perché qua mi sta spuntando un bellissimo corno Da unicorno Quindi sto veramente diventando un unicorno a tutti gli effetti Perla Hai rubato la marmellata? Cigiona! Perla! Cioè io non ho parole Mi hai rubato la marmellata dal vassoio Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà? Sono pronta Ho messo sempre i miei leggings Strano Anche questi neri La maglietta termica Con la lega ragno E poi sopra metterò il golfino grigio Siamo tutti due col golfino? Sono le 11 Ci siamo in macchina E stiamo andando dai nonni Buon appetito! Ho appena finito di mangiare Mia mamma è andata A portare il mio nonno in ospedale Perché io non posso andare in ambulanza Perché sono minorenne E io sono qua con mia nonna Ciao! Ciao! Saluta! Ciao! Adesso stiamo un po' insieme E poi non lo so Ci vediamo dopo Buongiorno Mi sono messa gli occhiali No sto scherzando Non mi prendete un infarto Sono finti Comunque c'è ancora qui mia nonna Saluta! Ciao ciao! Sono le 2 Meno 10 Come sto con gli occhiali? Lo so che sto malissimo Però vabbè Non mi importa Ciao! Cosa vuoi dire alle persone che mi seguono? Che sei una delle persone più valide del mondo Ne approfitto Ne approfitto per farvi un mini room tour Della camera Arredata in stile natalizio Ho attaccato questo cartellone Tra virgolette Questo disegno che avevo fatto io l'anno scorso Con scritto Christmas loading Con il coso del... Vabbè insomma Del telefono diciamo Con questo domino di pan di zenzero E questo scotch Questo decotape di tiger Con gli alberelli Qui al posto del mio calendario Ho attaccato il calendario dell'avvento La mia scrivania è ancora un casino Perché ho tutte le cose che erano nella valigia Che non ho ancora messo a posto Però ho messo questa candela dell'avvento E poi questa pigna Tutta glitterata Al mio lucernario Ho appeso questo aeroplanino Con una renna Che vola in aria Ok basta Poi qua sul calorifero Ho messo questo alberello Che ho preso dal Lupin Tutto mega stra ultra Super glitterosissimo Questo Poi qui c'è il mio Mariano l'alberello Che ormai tutti conoscete Che aveva le lucine Però si sono rotte Quindi adesso le ricomprerò Ma dato che questo alberello è molto piccolo Di solito le luci avanzano un po' Quindi le metto anche sopra la tele Che vanno fino là Qua ho questo bellissimo porta candele Che quando è acceso fa un effetto stupendo Con questo paesaggio Molto 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 bello Ho un altro porta candele Che ho preso da Tiger Questo qui l'avevo preso in montagna Non mi ricordo quando Questo qua si mette la candelina qui E basta Sulla mia vetrinetta Ho messo questa renna Tutta glitterata Che mi aveva regalato mia nonna Non mi ricordo quando E dentro Ho messo questo sacchettino Con tutte le mie candeline Da ricambio Per riempire un po' la slitta Sul comodino di fianco Alla parte dove dormo del letto Ho questo porta candele Di Tiger Sempre Fatto in questo modo Con i fiocchi di neve Che si illuminano dopo Quando si accende Come candela Dentro ho messo questa Che è la Sugar Apple E sta di me la caramellata Insomma è stranatalizia L'ho trovata nella confezione Che mi aveva regalato L'anno scorso mia mamma A Natale Della Yankee Candle Natalizia In questo comodino invece Sotto Ho questa bellissima casetta Con dentro Una candela Che mi avevano regalato In realtà Avevano regalato mia mamma Però io l'ho rubato Poi ho la mia candela Preferita in assoluto Della Yankee Candle La Christmas Cookie Poi vabbè Qua dietro c'è quella Della Jewel Candle Al cioccolato Però può essere natalizia E poi Sullo specchio Ho questa ghirlanda Di quelle che si mettono Di solito sull'albero Qua Questo fiocchetto Sempre da mettere Sull'albero Che ho preso da coin E questi bastoncini di zucchero Sempre presi da coin Questo qui Sull'armadio Sulla cabina armadio E poi questo qua Sul letto Poi io di solito Prendo anche i bastoncini Di zucchero veri Perché mi piacciono troppo Quelli di Tiger E li metto in un barattolino Qui sotto E poi alla fine Li mangio tutti Però Non li ho ancora Trovati Adesso andrò da Tiger Se ci sono Li prendo Perché sono troppo buoni Ah e poi Non è natalizio È invernale Però sotto il comodino Ho le pantofole Quelle peluciose Perché d'estate Ho le ciabatte Le infradito E invece di inverno Ho queste Che metto qui sotto Però non sono natalizie Sono invernali Tra l'altro Mi sono ricordata Che io avevo Un po' di questi Perché io facevo La collezione Di queste palline Con la neve E quindi ho tantissime Di Natale Questa con Babbo Natale Questa con Il presepe Questa con l'orsetto Con la scritta Snow Dentro a questa Scatolina Non lo so Un altro presepe Questa è gigante E questa suona anche Poi ho quest'altra Sempre natalizia Sempre che suona Con i cani Con scritto Happy Holidays E qui ci sono i cani Che abbagliano Ed è fortissima Ok basta E l'anno scorso A Natale Ho fatto anche un video Dove facevo cantare Questi cani E Perla iniziava A ululare Disperata Tra l'altro Quel video L'ho messo Anche su Perla Forever Quindi se non la seguite In Corea Andate a seguirla Si chiama Perla-4Ever Su Instagram Così potete vedere Quel video Fa troppo ridere Poi ho questo qui Che avevo preso Tanti anni fa In montagna Fatto tutto di legno Con un presepino Bellissimo Bellissimo E questa candela Che non mi ricordavo Neanche Che mi sono trovata Che mi sa Che mi hanno dato L'anno scorso Molto 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 Natalizia Quindi metterò anche Questa da qualche parte Non so dove metterò Tutte queste cose Però da qualche parte Sono le 4 e un quarto Abbiamo già accompagnato La mia nonna A casa E adesso Sto facendo La tisana Che abbiamo comprato Ieri E io la bevo Nella mia bellissima Tazza Molta buona La nostra nuova tisana Adesso Mi lavo i denti E poi Andiamo al cinema Perché il film inizia Le 5 e 25 E sono le 5 meno 20 Siamo alle 8 Siamo praticamente Arrivati a casa Adesso Il film è stato Bellissimo Bellissimo Mi è piaciuto Tantissimo Non dico niente Non spoiler niente A chi non l'ha ancora visto Però scrivetemi Qui giù nei commenti Chi l'ha visto Chi non l'ha visto A me è piaciuto tantissimo Scrivetemi Se vi è piaciuto Abbiamo fatto L'altra tisana Ed è azzurra Azzurra Guardate È azzurra Sono alle 9 e un quarto Sto guardando I vlogmas E dopo Guarderemo Gray Sanatomi Non vedo l'ora Finalmente abbiamo ripreso il giro Perché non lo guardavamo più Da un bel po' Da tipo Settembre Perché c'è stato Il grande fratello Quindi abbiamo guardato quello Poi E non l'abbiamo più guardato Adesso l'abbiamo ripreso il giro Lo guardiamo ogni sera Sono molto molto felice Perché non vedo l'ora Di finirlo Comunque sto bevendo l'acqua Ho introdotto la sonda Nella principale area Della vascularizzazione Della massa del tessuto Parabiotico anormale Per interrompere La vascularizzazione Sì Poi Ho rimasso l'eccesso Di liquido amniotico Sono le 10 e mezza Tra un po' Io e Ferla Dormiamo Quindi vi salutiamo qua Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice in su Per farmi continuare I vlogmas Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Perché non c'è motivo Per non farlo Io vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo domani Col prossimo vlogmas Buonanotte Buonanotte Buonanotte